Ciao a tutti amici, bentrovati in questo nuovo video, dove si esce assolutamente dai gangheri per quanto riguarda Karen Smith e Selvaggia Lucarelli, perché ballando con le stelle se ne vedono delle belle. Non perché fa rima, però, insomma, il patatrack è successo proprio qui ed è successo nel corso della quinta puntata subito dopo l'esibizione di Luisella Costamagna, che già nel corso della puntata precedente aveva fatto discutere e nemmeno poco. Infortunata alla caviglia per la giornalista, la collega dovrebbe ritirarsi, mentre gli altri giurati continuano a delugiare il suo impegno e il suo sacrificio, sì, perché nonostante, insomma, l'impedimento sta continuando, no? E allora è stato detto, trovo scorretto che venga trattata meglio delle altre. Sì, la trattate meglio, perché questo suo impedimento, chiaramente, eroicizza la sua figura, perché lei, nonostante tutto, è qui e balla e non ci rende obiettivi. Questo è un bellissimo ballo individuale, ma questa è una gara e tu stai giocando un'altra partita, in cui tutti sono più buoni con te perché, poverina, lei balla con il tutore. Ed è così, ragazzi, fine, è la verità, non c'è altro. Questo stato è stato, non so se è giusto o no, poi questo me lo saprete dire voi, ma questo è stato l'attacco di Selvaggia Lucarelli. Caroline Smith ha invitato Selvaggia Lucarelli a farsi una cultura sui musical, visto che l'ultima coreografia di Lucella Costamagna era tratta da All That Jazz. E subito, ma tu che parli così, hai mai visto il film All That Jazz? Allora, Bob fosse uno dei più grandi coreografi, lasciami parlare, Selvaggia. Allora, secondo il tuo discorso, Bob fosse... non ha capito nulla, eppure ha fatto i più grandi spettacoli. Vatti a vedere a Chicago e All That Jazz, ascolta. Io ho avuto l'educazione di lasciarti parlare, e quindi lascia parlare anche me, grazie. Ho qualche esperienza in più di te, che dici? Faccio ballando dal 2007. E queste sono parole alle quali Selvaggia ha risposto a tono, non c'è stata questa cosa. E ho detto, tu, educazione con me, non ne hai mai avuta da quando abbiamo iniziato ballando, quindi stati buona, stai buona, dai, stai buona, non aggiungo altro. Tu e l'educazione siete proprio due mondi diversi. Oddio, ora ricomincia con l'esperienza in più di me, mamma mia. E insomma, sembrano fare fuoco e fiamme, ma mettiamoli un attimo da parte. Capitolo classifica, a stravincere è stata la coppia formata da Rosanna Banfi e Simone Casula. Sono loro a balzare al primissimo posto in classifica grazie al tesoretto che ha segnato loro Rossella Herra, prendendo così metà dei punti. Quindi 25 per l'esattezza, dal tesoretto totale di 50 punti. Ma non solo, l'altra metà del punteggio per volere di Alberto Matano è andata invece alla coppia Luisella Costa Magna, Pasquale La Rocca. E questo, cari amici, è tutto per quanto riguarda questa news. Io vi ringrazio per l'ascolto, anzi, vi auguro una buona giornata a tutti, se vedete questo video proprio oggi, oggi fresco di giornata, vi auguro una buona domenica a tutti. Mi raccomando, ci sentiremo in settimana per altre news, come sempre, su Pausa Caffè Live.